il motore più semplice del mondo occorrente una batteria da un po' per mezzo due magneti di efflu di rame rigido non smaltare e si appoggia questa aspira fatta in questa forma qua in maniera resti appoggiata che le estremità inferiori tocchino sulla batteria ed ecco l'aspira ruota ruota perché tutte le volte che tocca con l'estremità non sempre ecco la parte inferiore della batteria collegata al magnete nella spira circola potente si forma un campo magnetico che va a interagire con il campo magnetico dei due magneti i due campi interagiscono e dato che la spira è mobile ruoterà intorno al campo fisso e tutto qua facciamo un pochino più boschetto ci sono sempre forme è un motore monopolare costituito da un'unica spira costituito da un'unica spira ok grazie grazie grazie